Udinese Genoa. Conferenza stampa di Gilardino l'Euforia deve sempre portarlo dentro. Specialmente dopo le vittorie come quella con Roma. È energia positiva e dobbiamo portarla a Udine. Dobbiamo riprenderci rapidamente. C'è la volontà di andare a giocare. Lo sappiamo che dovremo affrontare un indificidio di squadra. Ma la classifica non riflette il suo valore. Dovremo affrontare questo gioco con Ferocia dal primo all'ultimo minuto. Le condizioni dei feriti Badeli e Strootman li valuteranno nei prossimi giorni. Ecuban. Sabelli aspettiamo oggi per comprendere meglio le sue condizioni. Con Milano e Kevin perdiamo due giocatori importanti. Ma stiamo lavorando bene e finora tutti sono stati pronti. Questo è accento grave molto gratificante Udrap invece di Badeli? Può coprire più ruoli a centrocampo. Valuto oggi prima del pomeriggio allenando alcune situazioni fisiche di alcuni giocatori per cercare di mettere la squadra migliore per domani. Devi pensare a domani. Non a cosa accadrà tra una settimana. Avrò ancora stasera e domani mattina per decidere te last scelte. Il recupero di Malinowski sta bene. È un giocatore in crescita. Quando è arrivato volevo giocarci immediatamente e in quel momento forse non era in ottime condizioni. C'è stato un breve periodo in cui ha giocato di meno o non ha giocato ma questo non lo fa porta via i. Testimoni che ho nei suoi confronti. È un giocatore importante che. Quando scenderà in campo. Dovrà fare la differenza e tutti ci aspettiamo molto da parte sua.